Si scaldano i motori per l'ottava edizione della storica rievocazione del Gran Premio di Bari. Anche quest'anno il capoluogo pugliese si prepara ad ospitare la straordinaria prova di regolarità per auto d'epoca organizzata da Old Cars Club, che avrà luogo nel quartiere Miura dal 25 al 28 aprile. Un'edizione inserita nell'assi circuito tricolore che si preannuncia ricca di spettacolarità e di eventi collaterali che a partire dal 6 aprile animeranno la città e non solo, tra esposizioni, incontri, shooting ed eventi dedicati ai più piccoli. Sono tante le manifestazioni sportive di questa primavera a Bari. Questa è particolarmente bella perché è unica nel suo genere e perché unisce la passione di tantissime persone per delle auto storiche, sono davvero tante quelle che vivono nelle nostre terre, anche chi viene da fuori e poi la bellezza anche del fascino di una gara del passato. Le macchine sono veramente belle e vederle non solo nella prova la domenica ma anche nelle giornate precedenti riempiono quel fine settimana trasformando Bari in una città attrattiva. Si parte sabato 6 aprile alle ore 18 al Museo Civico di Bari con l'inaugurazione della mostra storica dal titolo Ieri, Oggi e Domani, un racconto tra immagini e cimelli sulle tracce dei più grandi campioni che tra il 1947 e il 1956 si sfidarono sul circuito del Gran Premio di Bari.